E rieccoci a una nuova parte di Pokémon Rumble! Non so perché ho fatto l'intro così, ma bene, siamo tornati con i dungeon centrali di Pokémon Rumble. Grado C. Speciale. Speciale perché è speciale colui che sta facendo questa guida, non per altro, eh. Perché ci sono Raiorn che non sono Pokémon di quarta, mi chiedo. Perché sto utilizzando ancora Tangela dalla scorsa parte, mi chiedo. Perché finisco le frasi con mi chiedo, mi chiedo. Wow, stiamo andando veramente così spediti? 36 secondi, abbiamo già finito il primo quadro? Wow. Oh, qui ci andiamo a nozze, che abbiamo Mega Assorbimento o Giga Assorbimento, non mi ricordo mai quale sia. E ci sono Pokémon di tipo Roccia! Yeah! Però diciamo che i Geodude sono meno resistenti dei Raiorn, vabbè, ma questo si capisce anche... Ad occhio! Poveri insulsi. Geodude. Cercano di competere con il maestro. Maestro di Pokémon! Questo diventerò! Ash, fino a letto. Wow, mi ricordo i Dialoghi, ma ci rendiamo conto? Oh, che basta. Mi faccio troppo prendere dalla musica di questi giochi, non ci posso fare nulla. Distruggere! Distruggere, Raiorn! Distruggere! Ok, alla grande, vai con il reclutamento. Un altro, non ho preso un altro... Aia, mi fa male il collo. Porca miseria. Altre cose e muoio. Ci mettiamo la stanchezza per lo studio. Ci mettiamo la stanchezza per i video. Dolori al collo. Vai! Che poi perché mi fa così male, cavolo? Aia. Ok. Non lo so, sarà la pioggia, perché l'umidità, sapete? Krogank! E io ne voglio uno, perché Krogank è un Pokémon rana. Ed è blu. Ha tutti i requisiti perfetti. Certo, non ha la dolcezza di un Poliwhirl, ma... E' sempre una rana blu. Intanto facciamo un'ambassa di questi Pokémon. Ok. Quanto è bello il pezzo di musica che c'è quando si cambia il quadro! Mio Dio! Bum! Bum! Ah sì, comunque il boss è Toxicroak. Vabbè, ho evitato di dirvelo, perché c'è... Andiamo. Prevedibile, no? Toxicroak è bellissimo. Mi ricordo ancora la prima volta in cui l'ho incontrato. Pokémon di Saturno. Saturno. Sì. Comandante del Team Galassia. Che bello. Adoro le rane. Adoro le rane. I Pokémon rana. I Pokémon rana blu. Le rane blu. Le rane Pokémon blu. Le blu Pokémon rane. Sì, 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 sì. Sono bellissime. Che poi tra l'altro sto attaccando un Pokémon di tipo veleno con una mossa di tipo erba. Il che mi va a sfavore! Porca miseria! Vabbè, con qualsiasi Pokémon va bene. Ormai l'ho messo giù praticamente. L'ho addolcito con Tangela. Raiorn con Incornata. E due mosse bastano per mandarlo giù. Wow, ci voleva tanto, Lars. Mi si è smaterializzato addosso e non l'ho reclutato. Perfetto. Adesso tocca la forgia rogo Il vostro dungeon preferito Il mio non tanto Però la forgia rogo Come abbiamo potuto vedere È portatrice sana di pokemon speciali Sarà già questo un pokemon speciale? No, non lo è Questo? Nemmeno Forse è quello lì Che è lì in fondo che mi aspetta Ok, ottimi la polita Ma ormai c'è La tradizione non mente Facciamo così Se ne trovo almeno tre speciali Sarebbe veramente La tradizione secolare No Cavolo È normale Chimchar Ehi Pokécraft Come stai? Non vedo il tuo Chimchar Da un po' di tempo Questa è cattivissima Vi prego Non fate vedere il video A Pokécraft Dai Voglio pokemon speciali Cavolo Vai Che forse qualcuno L'abbiamo preso L'abbiamo reclutato due ponita Uno è normale E l'altro pure A quanto pare L'ho preso? Era nella mischia? Ok, era nella mischia Mi sa che oggi Poco Facciamo poco Veramente Ok Forza Forza Crepate brutti Chimchar Dai un Chimchar L'ho preso però Vabbè Qui il boss sarà Monferno Inutile dirlo Ok Palmita normale Niente Non ne trovo oggi Solo uno Un Chimchar normale Niente Oggi Così Oggi è così E Poca roba Boss time Che è Monferno Giustamente Pokemon Briccone Ora me lo manda K.O. Dato che c'è tipo Pugno rapido Qualcosa del genere Comunque nell'animazione C'è un pugno Cavolo Maledetti Chimchar Voi non potete togliermi L'energia Può togliermela Solo il boss Ehm Qualsiasi Ponita Magari questo Faccia riduttore Meglio Dai Ok Un attacco Basta E avanza Reclutiamo almeno Uno di loro No Speriamo in Primplap L'unico starter Rimasto Quanti ne abbiamo reclutati Di Ponita Oh mio dio Ok Nella prossima parte Faremo gli ultimi Due dungeon Del grado Del grado C Speciale Per oggi Direi che possiamo Salutarci qui Prima però Facciamo un rapidissimo Cambio con Raidon E poi E poi di nuovo Con tangro Sì perché mi piace Trollare Qui no Non è vero E poi cambiamo Di nuovo Un'ultima volta Con tangela Con tangela E adesso mettiamo Il rattata che abbiamo Preso all'inizio Anzi no Non è vero Ciao Ciao